Jennifer Aniston o Bella Hadid, chi indossa meglio labito Versace La bellezza non ha limiti di età o di provenienza, lo hanno dimostrato Jennifer Aniston e Bella Hadid indossando lo stesso abito di Versace in due occasioni diverse. Una ha 48 anni ed è l'icona della femminilità americana, come una vera donna in carriera, l'altra ha 20 anni, nata da una famiglia palestinese, ed è una giovane top model di successo e una influencer sui social. Pur avendo due fisici diversi, si sono mostrate in pubblico con lo stesso abito firmato Versace, nero, scollatissimo e con un ampio spacco sulla coscia. Entrambe hanno una silhouette perfetta che ha valorizzato e messo in risalto lo stile dell'abito del brand italiano. D'altronde come si può resiste alla bellezza di un Versace? Bella Hadid l'ha indossato proprio in occasione del party in onore di Gianni Versace, in seguito alla sfilata della Milano Fashion Week a cui hanno partecipato le migliori top model degli anni 90, tra cui Claudia Schiffer, Carla Bruni, Naomi Campbell e Cindy Crawford. Jennifer Aniston invece aveva anticipato la modella, indossandolo al party di Vanity Fair in occasione degli ultimi Oscar. Jennifer Aniston, una forma fisica perfetta. Jennifer Aniston è alle porte dei 50 anni, ma la sua bellezza e il suo fisico pare non siano stati colpiti dall'età. Lei è l'icona di una femminilità naturale e diretta, che non ha bisogno di grandi maschere o di operazioni per apparire al meglio. L'attrice vanta una carriera di successo a partire dalla sua interpretazione di Raquel Graham nella serie TV Friends, che le è valsa un Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Nel 2004 è stata nominata come donna più bella dell'anno dal periodico People, ma anche se da allora sono passati 13 anni, il tempo sembra essersi fermato per lei. Non è un caso quindi che abbia scelto proprio l'abito di Versace per apparire al massimo del suo splendore durante il party di Vanity Fair in occasione degli ultimi Oscar, l'ampio spacco sulla gamba e la scollatura sul seno, hanno mostrato un fisico tonico, in perfetta forma. Il suo segreto? Sembra molto semplice, basta seguire una dieta equilibrata a base di frutta e verdura, riducendo il livello di zuccheri. Un altro consiglio da seguire è quello di bere tanta acqua e di dormire il giusto numero di ore ogni notte. Oltre a questo, la Aniston è anche una fan dello sport e in particolare dell'ellittica, grazie alla quale riesce a mantenere sempre il corpo tonico. 20 anni e un successo straordinario. Avere vent'anni ed essere sulla cima dell'Olimpo delle modelle internazionali, questa è la vita di Bella Hadid, che in pochi anni ha raggiunto un successo straordinario, diventando anche una influencer su Instagram. È giovane e bella, per questo l'abito di Versace sembrava cucito appositamente per lei, esaltando ancora di più le sue forme perfette. Bella Hadid è carismatica eppure apparendo inizialmente più timida rispetto alla sorella Gigi, in realtà ha saputo ritagliarsi la scena in un modo impeccabile. Oggi su Instagram ha 14,9 milioni di follower che la seguono in tutte le sue attività quotidiane. .